Arrivando a Calitri, paese di montagna dell'Alterpinia, ci si imbatte in un oggetto incongruo. È la nostra torretta di avvistamento, è il nostro primo punto di salvataggio ed è la declinazione del tema che ha dato allo Sponsfest di quest'anno Vinicio Capossela, che è selvaggio. Come diceva Leonardo da Vinci, selvaggio è colui che si salva. Salvarsi dunque inselvaticendosi in questo far west d'Italia. E' qui che Vinicio Capossela da sei anni celebra con il suo festival itinerante la bellezza selvaggia della sua terra d'origine. È un luogo tra l'altro anche di vuoto perché è stato svuotato dall'immigrazione. Il vuoto però può essere una risorsa quando non lo si lascia all'abbandono e al degrado. Musica sui palchi e nelle strade, laboratori di incontri, antichi rituali, leggende e sentieri da esplorare insieme ai piccoli musei della zona, come quello di Bisaccia, ai monasteri come l'abbazia del Goleto, fondata nel XII secolo. Rocche e borghi svuotati dal terremoto dell'Ottanta diventano festa diffusa dall'alba al tramonto. È così che ci si salva. E' una grande occasione ed è importante mantenerla viva, riuscire a portare quanta più gente in una provincia che ormai purtroppo si sta sgredolando. Questa è l'occasione di migliore qualità del turismo in Irpina, non ci sono sei, non ci sono mai. Siamo tutti qua inzaccheratissimi, infangati ma felici di vivere la nostra Woodstock Irpina. Grazie a tutti.